Giovanni Graziano, Presidente del patto territoriale del Bussento e Valogliano, promuovere occasioni di incontro istituzionali a prescindere dalle appartenenze politiche ideologiche, si cresce anche così, si valorizza anche così un territorio, vero Presidente? Ma sì, intanto io ci tengo a chiarire, così come ho già fatto in passato, che questo incontro non vuole essere una passerella con i soliti convegni, ma vuole essere un primo incontro con i tecnici della Regione per questa opportunità data dal piano di sviluppo rurale emanato nei giorni scorsi, opportunità che si aprono per il nostro territorio e che intendiamo cogliere. Tanto è vero che già la settimana prossima abbiamo delle riunioni operative, oggi iniziamo a discutere, lo partecipiamo al territorio e per cui siamo fiduciosi di portare il beneficio dalle parti nostre. Questo tipo di comunicazione in tessuto, questa possibilità che gli altri hanno di partecipare a questi incontri sembra essere ben recepiti dal territorio e anche dagli amministratori, dai sindici del comprensorio. Secondo me noi in questo periodo stiamo scrivendo delle belle pagine della politica locale perché messi da parte gli steccati di parte si sta ragionando tutti quanti insieme per cercare di individuare una via di uscita da una situazione d'embasso che ormai ci affligge da troppo tempo. E' un po' di tempo che questo territorio è costretto sulla difensiva, ci dobbiamo difendere per difendere i tribunali, gli ospedali, le comunità montane, gli enti eccetera e stiamo perdendo di vista l'impegno per lo sviluppo. Dobbiamo combattarci per difendere il nostro ma anche per cercare di progredire.